Salve a tutti dal vostro Sergio Vastarella e benvenuti a questo nuovo appuntamento di risorse gratuite per la didattica digitale. Oggi ci occuperemo di un software molto potente e molto interessante per la creazione di ebook. Questo software si chiama Scriba ePub e grazie ad esso potremmo sviluppare moltissime proposte didattiche per i nostri allievi creando noi stessi come insegnanti degli ebook da far usare a loro, degli ebook che potranno anche avere una parte di quiz interattivo al loro interno e assieme a questa proposta potremo lavorare con i nostri allievi per fare in modo che siano loro a creare degli ebook attraverso un compito di realtà, attraverso delle meravigliose attività didattiche per competenze con cui co-costruire assieme a loro dei percorsi, dei prodotti davvero interessanti e che hanno la reale capacità di uscire all'esterno della scuola. Naturalmente vedremo anche come questo programma Scriba ePub può essere integrato e impiegato in maniera proficua all'interno della nostra G Suite di classe. Se non lo avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al mio canale Sergio Bastarella e a cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati con tutti i nuovi video che preparerò. Non vi rubo altro tempo e vi lascio a questa nuova presentazione. Va bene vediamo l'ora di cominciare a lavorare con questo potente software gratuito. Basta scrivere Scriba ePub e si arriva a questa pagina di login. Io mi sono già registrato e basta che create gratis il vostro account. Qui c'è scritto che è gratis e lo sarà sempre quindi è sicuramente un'ottima risorsa. Entriamo nel programma. Allora qui mi sono appena registrato mi chiede di completare il mio profilo ma adesso non è importante. Questa è l'interfaccia che ci troviamo di fronte. Questo è il pulsante per cominciare a creare un nostro ebook. Qui ho fatto una piccola prova prima. Qui ci sono vari ebook segnalati top like, top ebook oppure possiamo entrare in biblioteca e troviamo moltissime risorse gratuite messe a disposizione anche da altri insegnanti ma anche da altre persone con altri interessi insomma che sono appunto assolutamente gratuite e già queste se ci piacciono sono condivise e le possiamo prendere e proporre ai nostri allievi se ci interessano. Vedete si entra semplicemente così. Qua si può condividere facilmente. Leggi di book, qui parla della Spagna, una storia comunitaria. Vedete si possono inserire immagini, si possono inserire testi, si possono inserire varie risorse che adesso vedremo un po' alla volta. Vedete che poi c'è una questa prova di verifica, qui è stata inserita in questo modo, ma diciamo che ci sono delle modalità interattive molto belle, molto interessanti per creare proprio anche dei momenti di verifica. Creare un ebook secondo me, io anche quando vado in giro con i miei corsi di formazione sulla didattica per competenze, sui compiti di realtà, sulla classe capovolta eccetera, parlando dei compiti di realtà ad esempio un compito di realtà potrebbe essere costruire un ebook con i nostri allievi. Vedete questo ad esempio è stato costruito da una classe, racconta tu che racconto anch'io con la loro insegnante e come vediamo questo è un prodotto multimediale, nel senso che ci sono diversi media che concorrono in questo prodotto, le immagini realizzate dai bambini, i testi che possono essere digitati e come sentite si può inserire anche la voce, la voce narrante, quindi diventa interessantissimo perché il testo viene scritto, vedete al computer, corredato con un disegno magari fatto da questa bambina Anna Chiara in questo caso e si può aggiungere la sua voce o quella dell'insegnante che legge o di chi volete. Se chiediamo ai bambini di registrare la loro voce prima vi consiglio sempre di chiedere l'autorizzazione ai genitori perché anche la questione della privacy, il garante della privacy dato che sono stati inseriti anche i dati biometrici tutelati dal garante della privacy e come dato biometrico si intende anche la voce allora vi consiglio se volete avventurarvi in questa bellissima esperienza perché un compito di realtà davvero potente bambini vi piacerebbe creare un ebook tutti assieme o magari lavorando a piccoli gruppi, ancora meglio i gruppi realizzano delle storie, realizzano le immagini, i disegni l'insegnante anche di fronte a loro lavorando alla Lima crea l'ebook registra le voci dei bambini, le inserisce e questi ebook vengono condivisi perché l'idea è vero che noi li possiamo ottenere tra i miei ebook ok però tra i miei ebook posso esportarlo vedete posso esportarlo come pdf o epub cioè che può essere letto dai lettori di libri digitali oppure semplicemente in pdf da un qualsiasi lettore un computer, un tablet, un cellulare eccetera però il pdf chiaramente non vi dà l'opzione voce l'opzione eccetera se vogliamo approfittarci di tutte queste opzioni digitali molto potenti quando abbiamo realizzato il nostro ebook lo dobbiamo condividere nella biblioteca quindi metterlo a disposizione di chiunque rimane di nostra proprietà rimane cioè l'ebook assolutamente di nostra proprietà è messo a disposizione è messo a disposizione anche di altri e può essere condiviso quindi secondo me è assolutamente interessante insomma anche questa modalità perché anche quando parliamo di compiti di realtà il compito di realtà diventa davvero di realtà quando poi sbarca all'esterno della scuola e questo vedete questo libro è autoprodotto e comunque rimane di proprietà dell'autore che lo ha realizzato anche se è condiviso con altri quindi l'invito che vi faccio è proprio quello di creare degli ebook ne potreste creare voi cioè noi come insegnanti ne potremo creare per i nostri allievi per delle spiegazioni ne potremo creare assieme a loro come attività come compito di realtà esplorando anche dimensioni un po' particolari di questa esperienza dell'ebook non lo so anche chi insegna educazione motoria potrebbe fare l'ebook assieme ai suoi allievi delle varie regole dei giochi delle posture degli esercizi eccetera quindi non ha limite questo approccio didattico ripeto una volta condivisi in biblioteca semplicemente con un click dopo funzionano online effettivamente con tutte le risorse multimediali come video di youtube eccetera che possiamo inserire al loro interno e funzionano in una modalità che è assolutamente condivisibile anche sugli strumenti della G Suite come poi vedremo nella seconda parte di questo filmato quindi vediamo un po' come si costruisce un ebook oggi io vi do alcuni spunti poi lascio a voi il gusto anche di esplorare tutto questo software con calma allora partiamo da un titolo io prima ho fatto i nostri amici animali e lo chiamo i nostri amici animali 2 così non si sovrappone qui si mette l'autore in questo caso sono io ma potrebbe essere la classe, i bambini eccetera sempre tutelando la privacy e crea ebook bisogna giustamente confermare di aver letto integralmente vedete la licenza, creative commons, attribuzione potrei sempre cambiare la licenza comunque non sono molte le regole come vedete ma molto chiare allora si accede a questo pannello vedete qui trovate tutte le spiegazioni passo passo quindi io oggi anche per fare un video che non duri insomma qualche ora vi do alcuni spunti di base per cominciare poi chi è interessato con calma si esplorerà il sito con tutte le risorse che contiene quindi partiamo dalla copertina partiamo dalla copertina e qui aggiungiamo la nostra immagine io ho sempre la mia cartella qua con gli animali già pronta allora mettiamo che inserisco la copertina del gatto che mi piace eccola qua in un secondo ho creato la copertina voglio vedere l'anteprima del mio ebook come sarà sarà così vedete l'ebook questa sarà la copertina se poi penso che la copertina questa qui se poi penso che la copertina vedete io qui ho già preparato una copertina con un titolo perché quella di prima era senza perché quella di prima era senza in realtà qui adesso quando inserisco la pagina mi da mettiamo partiamo con pagina semplice ok il cane intanto metto solo il titolo adesso voglio tornare alla mia impostazione salvo questa pagina qui in fondo vedete ho qui la copertina adesso che ho inserito vedete la prima pagina è comparso questo pulsante che servirebbe a modificare la copertina per l'appunto qui compare questo editor che però è un po' buggato cioè non funziona benissimo nel senso qui si vedono delle voci per fortuna passando col cursore si legge esattamente a cosa servono cioè qui potrei girare l'immagine flip ad esempio vedete qui potrei inserire un testo solo che io ho provato e se inserisco il testo da qui prova se inserisco il testo da qui che sarebbe anche più semplice creare il titolo poi quando vado su salva immagine vedete che non me la salva io sto cliccando ma non la salva dopo insistendo ogni tanto la salva ma non ho capito sulla base di cosa quindi credo che ci sia un po' un bug su questo quindi niente è più semplice fare come ho fatto io ho semplicemente preparato già l'immagine con sopra il titolo e l'ho inserita come copertina così in due secondi ho fatto senza dovermi mettere a discutere con questo bug che probabilmente in futuro sarà aggiornato ma per intanto insomma non funziona torniamo alla nostra prima pagina allora la nostra prima pagina io vedete qui ho messo i nostri amici animali classe quarta uno scolastico 2021 il cane noi abbiamo cominciato a lavorare su questa prima pagina qui poi potete vedete usare proprio tipo un editor di word eccetera il testo che vogliamo inserire allora il cane è detto il migliore amico il migliore amico dell'uomo e poi insomma voi inserirete tutto quello che vi piace ok mettiamo che adesso qua vogliamo inserire la nostra immagine allora semplicemente clicchiamo su strumento immagine vedete qui mi dice dove lo vuoi andare a prendere lo voglio andare a prendere qui da questo deposito online delle immagini che mano a mano vengono caricate qui per ora c'è solo la copertina schiaccio questo semplice pulsante carica aggiungi file mi vado a prendere l'immagine del cane che mi ero già salvato sul computer e poi faccio esegui l'upload e in un secondo l'immagine è stata caricata ritorno alla lista dei file vedete trovo l'immagine inserita ci clicco sopra e salvo e la mia immagine viene inserita nella pagina poi se la vogliamo centrare spostare di lato insomma fare tutte le cose che normalmente facciamo usando Word il cane è detto il migliore amico dell'uomo ho inserito l'immagine e mettiamo guardate questa immagine la voglio mettere al centro benissimo adesso non lo so io su un'altra pagina oppure voglio dare delle informazioni in più sul cane allora per esempio posso andare su mettiamo su wikipedia allora io scrivo wikipedia cane ecco qua mi viene fuori lupus familiaris il cane con tante spiegazioni dopo questo è un esempio voi magari collegate qualcosa che è alla portata dei bambini un articolo di focus junior quello che volete voi copio semplicemente questo link torno su scriva e pub adesso qui posso collegare il link allora posso collegare il link vedete lo posso collegare per esempio la parola cane lo collego la parola cane vado qui su questa catenella che significa collega link esterno collego link esterno qui dove c'è scritto url faccio incolla dove vuoi aprire? nella finestra corrente? no forse è meglio aprirlo in una nuova finestra e salvo vedete? si è attivato un link cominciamo a salvare questa pagina per vedere cosa sta venendo fuori eccolo qua adesso io vado a vedermi la mia anteprima della pagina vedete? qui ho sempre la mia copertina di prima i nostri amici animali il cane il cane è detto il migliore amico dell'uomo vedete? cane lo vedo blu so che blu significa link ci clicco sopra si apre un'altra finestra perché gli ho dato questo comando qui che è meglio perché se lo fate aprire nella stessa finestra potrebbe anche un po' dare dei problemi ogni tanto si apre un'altra finestra ho letto quello che mi interessava del cane torno al mio torno al mio ebook che ho appena creato adesso posso andare avanti nella creazione di questo ebook e per esempio potrei mettere guardate che bel video sul cane guardate che bel video sul cane e noi questa potrebbe essere la spiegazione di storia la spiegazione di italiano di geografia quello che volete voi il lavoro che fanno i bambini che realizzano loro assieme a noi a scuola per creare un ebook bellissimo vado questa volta a prendermi un filmato allora vedete qua filmato e lui mi dice generale incorporare incorporare ecco qua da dove incorporare potrei incorporare da file manager ma non mi interessa caricare un video allora per esempio vado su youtube e mi cerco un video che parla di cani youtube cani speriamo che non vengano fuori i video brutti cani pazzi cani divertenti ti provano a ridere video divertente sui cani può essere anche una cosa carina che è adatta per i nostri bambini condividi copia torno su scrivi ipad incolla vediamo se accetta direttamente il link benissimo vedete accetta direttamente il link anche questo mi piace metterlo in mezzo allora vediamo se mi lascia gli dico di metterlo in mezzo ecco qua vogliamo vedere come sta avvenendo il nostro lavoro vediamolo in anteprima eccolo qua il cane link esterno immagine messa da noi video che gira direttamente all'interno dell'ebook e quindi senza portarci all'esterno in altre piattaforme come youtube quindi vedete io qui vi ho fatto vedere alcuni passaggi se vi piace possiamo inserire l'emoticon come facciamo su tante applicazioni possiamo usare altri strumenti poi insomma vi riguarderete voi con calma io vi ho fatto vedere quelli principali inserisci link esterno inserisci immagine inserisci video queste sono alcune delle principali funzioni di questo stupendo software gratuito se vogliamo inserire anche un audio nella nostra pagina allora vedete qui si può allegare un file qui si può mettere questo background audio cioè audio in background c'è anche il programma proprio per registrare l'audio apro audio recorder viene fuori questa impostazione clicca record per registrare io adesso voglio registrare qualcosa che si sentirà durante l'apertura di questa pagina e che si potrà potrà essere bloccato o comunque fatto andare in automatico allora record ciao bambini ecco la nostra pagina sul cane da qui potrete scoprire tantissime informazioni su questo animale che è detto il migliore amico dell'uomo stop qui sento la registrazione si è venuta bene ciao bambini ecco la nostra pagina la registrazione è venuta bene la seleziono e la registrazione è stata inserita nel nostro nel nostro nella nostra pagina vado a vedere magari salvo per sicurezza vado a vedere dentro la nostra pagina cosa abbiamo vedete? ciao bambini ecco la nostra parte in automatico poi io la posso bloccare e vedermi la pagina eventualmente la nostra pagina sul cane e finire di sentirla quando preferisco e adesso andiamo ad aggiungere un'altra pagina qui vedete potrei inserire una cartella dove mettere dentro dei materiali una consegna generica tipo un compito un quiz di hot potatoes se avete questo software se lo avete scaricato lo usate pagina con fotogallery quindi quiz interattivo adesso lo vediamo pagina con audio video ma si può inserire anche qua pagina con timeline pagina grafica insomma tante risorse che ripeto poi magari esplorerete un po' voi un po' alla volta creo una pagina quiz interattivo e adesso qua metto rispondi alle domande rispondi alle domande qui vediamo un po' cosa succede rispondi alle domande sul cane o sui nostri amici animali o su quello che volete sulla conquista dei romani sulla proprietà distributiva su quello che vi interessa insomma vediamo adesso un po' come si può fare a creare questo quiz questo quiz che andrà inserito all'interno direttamente del nostro ebook per cui tieni traccia della consegna mischia gli elementi posso farli farli mescolare qui schiacciamo avanti adesso vedete qui è comparso struttura quiz che tipo di quiz voglio usare allora è vero che noi abbiamo anche google moduli che possiamo usare benissimo come quiz però qui abbiamo anche delle opzioni un po' differenti che potrebbero essere interessanti allora vediamo quelle più semplici risposta multipla domanda che animale vedi nell'immagine che animale vedi nell'immagine magari la pagina adesso un esempio velocissimo insomma risposta 1 cane gatto topo ecco qua punteggio risposta corrente a un punto feedback in caso di risposta corretta ha indovinato ha indovinato suggerimento in caso di riprova quello che volete voi salva e chiudi perfetto allora vediamo come sta avvenendo che animale è presentato nella prima pagina dell'ebook cane gatto topo cane ok controlla e memorizza la risposta controlla confermi invio confermo ha indovinato 100% tentativi effettuati 1 risposte corrette vedete e così dà anche il feedback delle risposte immediato vediamo un altro tipo di domanda che possiamo fare allora aggiungi domanda vero falso domanda il cane è il migliore amico dell'uomo punto di domanda il cane è il migliore amico dell'uomo punto di domanda l'affermazione è vera e anche qua il feedback ok riprova come abbiamo messo prima quello che volete voi salva e chiudi vediamo la nostra domanda per cui c'è il cane è il migliore amico dell'uomo vero o falso vero animale cane controlla ok tutte e due corrette vediamo ancora qualche altro tipo di domanda poi adesso le altre insomma un po' alla volta vedetele voi perché ci sono tante ce ne sono ce ne sono interessanti vedete corrispondenza si possono creare flashcard usare il dettato allora vediamo queste flashcard descrizione istruzioni allora inserisci almeno due immagini il relativo termine corretto che verrà nascosto e dovrà essere digitato in un'apposita casella di testo puoi inserire fino a 5 immagini puoi stabilire un punteggio da assegnare in caso di sequenza ordinata scegli l'immagine io mi scelgo il cane ok termine di corrispondenza ammettiamo che facciamo la domanda in inglese allora diciamo magari ai bambini di scrivere tutto in stampato maiuscolo poi magari lo mettiamo all'inizio del quiz qui lo metto nella domanda ma si può mettere all'inizio del quiz quando scrivi le risposte usa lo stampato lo stampato maiuscolo in inglese punto di domanda dog scegli l'immagine mettiamo gli altri a copertina a fare lo stesso cat ok 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 qua ci sono tutte le immagini punteggio 1 mischio le cards salva e chiudi ok vediamo adesso il nostro quiz come sta diventando come si chiamano questi animali in inglese dog ok facciamo anche le altre risposte per non sbagliarci ok controllo va bene tutto giusto vedete che bello questo per esempio insomma è interessante anche come strumento e così via poi ce ne sono molti altri riempimento vedete qua si può costruire un testo con i buchi insomma avete capito un po' il funzionamento di massima dei quiz provate vedete è molto molto interessante vediamo di aggiungere un altro tipo di risorsa allora per esempio c'è questa timeline che è piuttosto interessante vedete e qua la chiamiamo la storia del mio cane vi racconto la storia di fido vi racconto la storia di fido se vogliamo come al solito possiamo inserire l'immagine del nostro fido vi racconto la storia del mio fido per cui ho inserito l'immagine e poi gli dico avanti poi gli dico avanti e qui dove c'è eventi vedete creo questi eventi allora si parte qui si può scegliere il tipo giorno mese anno solo anno come volete voi allora io metto giorno mese anno 20 02 2018 sotto data è nato qua si sceglie l'icona di sfondo ok la lascio blu e metto nascita di fido mettiamo nascita di fido eravamo tutti emozionati eravamo tutti emozionati salva poi cosa succede poi succede che ne creo un altro aggiungo un altro un altro evento questa volta siamo al 24 05 2018 sempre fido scappa quel giorno eravamo in pensiero eravamo in pensiero eccetera 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 salva e chiudi e adesso qui vedete se io vado a vedere l'anteprima vedete come diventa la storia del mio cane vi racconto la storia di fido e viene questa timeline così può essere per raccontare una storia può essere anche fatta per la disciplina storia o per altre discipline insomma quando vi serve una timeline la potete creare e inserire nel vostro ebook quindi ripeto vi ho dato qualche spunto per usare questo software adesso torno alla mia pagina iniziale vedete qui c'è il libro che ho appena creato con queste quattro pagine questo libro se lo voglio condividere non faccio altro che andare sulle impostazioni vedete lo potrei esportare come pdf gestire collaboratori le operazioni gestire i file e lo posso pubblicare nella biblioteca il tuo libro è stato pubblicato nella biblioteca dalla biblioteca generale dalla biblioteca generale i nostri amici animali due eccolo qua e dalla biblioteca generale lo vedo come lo vedono tutti gli altri con il qr code che si è creato così lo potete mandare anche a casa semplicemente con questo che è carino che i genitori lo aprono con lo smartphone oppure insomma io vedrò l'ebook e qui ho il link per condividerlo e per usarlo eventualmente anche all'interno della nostra G Suite vedete se faccio leggi l'ebook lui mi fa vedere il nostro meraviglioso ebook che abbiamo appena creato in pochissimi minuti quindi ripeto per noi insegnanti per crearli per i nostri allievi per i nostri allievi per creare delle attività assieme a loro davvero straordinarie vediamo allora alcune proposte per integrare questo potente scriba e pub all'interno della nostra G Suite delle attività che facciamo con i nostri allievi allora tanto per cominciare mi apro la mia classroom eccola qua ok allora mettiamo per ipotesi che abbiamo realizzato noi insegnanti il nostro ebook quindi cliccando qui o in biblioteca insomma andando in biblioteca vedete mi compare l'ebook con il link per la condivisione che è questo e lo copio questo il QR code è carino potremmo stamparlo basta fare copia e colla su un foglio in un foglio abbiamo stampato per tutta la classe e sarebbe carino anche con questo mandarlo ai genitori così lo quadrano col cellulare e gli compare fare l'ebook creato dai figli sul cellulare potrebbe essere anche una modalità carina di condividere le nostre esperienze didattiche e scolastiche allora comunque ho copiato il link semplicemente se lo voglio condividere con i miei alunni non faccio altro che entrare in classroom leggete questo e poi qui come abbiamo visto anche nelle altre puntate con la funzione link incolliamo il link aggiungiamo pubblichiamo e in un secondo il nostro ebook è dentro classroom quindi i nostri allievi ci cliccano sopra e senza andare a finire da nessuna parte vedete gli si apre l'ebook e da qui possono leggere solo questo senza accedere ad altre risorse una proposta invece che potrebbe essere un po' più carina un po' più interessante e di cui non vi ho ancora parlato in questi giorni la potremo costruire attraverso i lavori del corso questa volta con crea potremo usare questa funzione domanda che fino adesso non abbiamo ancora visto allora qui possiamo porre una domanda allora cosa ti ha colpito maggiormente del libro sugli animali punto di domanda adesso qui non serve aggiungere altro magari i punti si possono semplicemente togliere vedete qui c'è gli studenti possono rispondere agli altri studenti questo è molto interessante perché così i ragazzi i bambini commentano e commentando e commentando possono rispondersi tra di loro così devono anche insomma scrivere in maniera corretta senza usare parole volgari o comunque senza attaccare nessuno quindi lavoriamo sulla netiquette sulla social chat eccetera io qui semplicemente faccio chiudi quindi lo creo davvero in un secondo e ho creato il compito che è il compito più che altro proprio la domanda vedete contraddistinta da questo bollo che è finita nello stream allora mettiamo che io vedo il mio alunno adesso vi faccio vedere dalla prospettiva dell'alunno ecco qui vedete questo è l'aspetto dal punto di vista dell'alunno allora aggiorniamo questa pagina ecco qua formazione dada ha pubblicato una nuova domanda cosa ti ha colpito maggiormente del i bambini i ragazzi aprono vedete la tua risposta quindi lo vedremo in questo pannello impostato in questa maniera soprattutto il cane soprattutto il cane ok e consegno la mia risposta non potrò più modificarla come ho deciso da insegnante nelle impostazioni adesso torno a vedere dalla versione insegnante vedete adesso qui troverò la risposta del mio alunno Sergio soprattutto il cane adesso io qui come insegnante posso rispondere all'alunno e dire bene anche gli altri nel senso rilanciare sollecitare così poi io qui ho solo un allievo dentro evidentemente però essendo una classe intera poi diventa interessante vedete vedono la risposta del docente poi può rispondere di nuovo l'alunno possono rispondere anche gli altri alunni quindi si innesca una sorta di dibattito a distanza che è anche un'attività molto interessante per la nostra didattica quindi ripeto semplicemente usando lo strumento di lavori del corso crea domanda possiamo creare una domanda su cui far discutere la nostra classe il che è piuttosto interessante un altro aspetto potrebbe essere collegato a di scrivo ipub potrebbe essere collegato collegabile a google sites allora qui per esempio vedete a me non compare l'iconcina di sites potrei andarmela a cercare dagli altri sfogliando tutti i software messi a disposizione da google se vado su drive comunque drive mi fa vedere le mie attività recenti e trovo il sito su cui ho lavorato in questi giorni che comunque ho archiviato su drive quindi da qui mi apro il sites il sito con cui lavoro con i miei allievi con la mia classe qui ci sono le varie sezioni su cui abbiamo lavorato nei giorni scorsi le sezioni queste qui posso semplicemente spottraccinandole così vedete riordinarle forse non ve l'avevo detto l'altra volta qui a questo punto posso creare magari una nuova sezione che chiamo biblioteca che chiamo biblioteca così in questa sezione possiamo metterci libri che creiamo noi docenti quelli di altri quelli fatti con i nostri alunni eccetera nella sezione biblioteca con inserisci posso andare a inserire o direttamente usando incorpora vedete basta che vado a prendermi poi l'url l'indirizzo del volume per cui questo qui e copia e incolla molto semplice molto veloce e indolore e scelgo l'anteprima così che mi piace di più piuttosto che quella del libro che potrei anche sceglierla ok qui ho scelto quest'anteprima questi sono è un libro basta cliccarci sopra se poi ne voglio inserire un altro vado di nuovo su incorpora torno su scrivo ipad magari questa volta vado a vedere in biblioteca qua sopra vedete cosa c'è di interessante vedo questo sull'educazione alimentare che potrebbe essere interessante per i miei allievi allora copio l'indirizzo copio l'indirizzo e anche qui semplicemente lo inserisco in colla e lo inserisco in questa maniera nella nostra biblioteca poi questi elementi si possono sistemare vedete spostare aggiustare eccetera e così creo velocemente una biblioteca di testi fatti da insegnanti che potrebbero anche contenere dei quiz ne troverete sicuramente con quiz preimpostati che potrete sfruttare oppure in alternativa un'altra soluzione potrebbe essere quella di usare la casella di testo e dire non so per la prossima settimana per la prossima settimana leggete uno di questi libretti o libri o come volete poi mi metto gli animali la piramide alimentare piramide alimentare eccetera e qui non farò altro ah l'elenco si è autocreato giustamente perché ho messo un segnetto qui non farò altro che selezionare la parola sempre con la nostra catenella per aggiungere un link incollo il link applico e come vedete vi faccio vedere dall'anteprima del computer viene fuori la pagina così biblioteca quindi i nostri amici animali se clicco qui mi si apre l'ebook da solo senza altre cose che possono darmi fastidio oppure semplicemente dall'elenco vedete qui vedo che è attivo perché ha sottolineato clicco sopra e raggiungo sempre il mio ebook e credo che anche per oggi vi ho dato una quantità sufficiente di consigli per sfruttare molte risorse gratuite per la didattica digitale va bene come avete visto questo programma è davvero molto potente e ci permette di sviluppare differenti proposte didattiche che sapranno certamente coinvolgere tutti i nostri allievi spero che anche questa video lezione vi sia piaciuta e vi sia servita se vi è piaciuta se l'avete trovata interessante vi invito a condividerla con tutti i vostri contatti io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata arrivederci a presto a presto a presto Grazie a tutti.